La previdenza con un sistema contributivo come l'attuale diventa automaticamente una pensione integrativa. Quindi le casse di previdenza hanno bisogno di creare opportunità, di creare ricchezze, di creare sistemi di welfare di previdenza in senso lato che in qualche maniera accompagnano il professionista per tutta la vita. Non è più un accantonamento di durata quarantennale ma un accantonamento che viene reinvestito e porta valore alla professione.